A volte mi viene chiesto, cosa sia questa strana spada che di solito vedete alle mie spalle da questa parte? Si tratta di una corea nepalese e se pensate che questa sia strana, non avete visto nulla. Bentornati e grazie per esservi sintonizzati anche oggi su questo canale. Come credo abbiate intuito, sono un appassionato di armi bianche, quindi ho pensato di condividere con voi un po' di curiosità che forse non conoscete. Dicevamo, la corea è un po' una via di mezzo tra una spada e un macete, ma a quanto pare nel sud-est asiatico apprezzano particolarmente le lame con curvature strane. Prendete ad esempio il kelewang indonesiano, che ricorda un po' i nostri falcioni o scimitarre. Questo in particolare è la sua versione più caratteristica, con questo uncino decorativo sul dorso della lama. Guardate anche questo kujang, un coltello la cui forma e le cui decorazioni per gli indonesiani hanno un profondo significato simbolico. È molto strano ma anche molto bello secondo me. E sì, purtroppo questo video sarà la festa delle pronunce sbagliate, perché portate pazienza, ma ha malapena sopronunciare l'italiano, figuriamoci le lingue asiatiche. Mentre siamo in Asia, date un'occhiata a questa. Una spada con lama flessibile. Si tratta di un rumi, un'arma indiana che è un po' una via di mezzo tra una spada e una frusta fatta di acciaio affilatissimo. Come se questo non fosse già abbastanza assurdo e pericoloso, esistono anche versioni con più lame attaccate ad una singola impugnatura. Vedrete che l'India sarà ricorrente in questo video, ma per adesso diamo un'occhiata al haladie, un pugnale che sembra uscito da un fantasy di bassa lega. Assomiglia un po' ad un tirapugni a cui hanno aggiunto non una, non due, ma ben tre lame curve e seghettate, giusto per renderlo discreto. Un design concettualmente simile ma un pochino meno pacchiano, lo troviamo anche nell'uja dao cinese, che probabilmente sarà familiare a chi di voi pratica Kung Fu. Così come la spada uncinata o Shuangou, che prende il nome dal lungoncino che viene usato sia per bloccare l'arma al colpo dell'avversario, che per agganciare tra di loro le due spade quando vengono utilizzate in coppia. Come permesso, torniamo in India e diamo un'occhiata al Maduvu, o corna di fakiru, una sorta di strano scudo con due lunghe corna di capra o antilope che sporgono. Questo perché, secondo i precetti induisti, ai fakiru non è consentito utilizzare armi, e quindi loro si arrangiavano un po' con quello che avevano. A volte non avevano neanche lo scudo. Comunque, mentre siamo in tema scudi, facciamo un salto anche in Europa e più propriamente nei manuali del maestro di spada Hans Talhoffer, che ci mostra uno scudo piuttosto particolare. Si tratta di uno scudo da duello, che veniva utilizzato sia a due mani, quindi da solo, che con un'altra arma. E sì, ce n'è anche una versione più metal con un sacco di punte. Già che siamo in zona, passiamo a trovare anche Fiore dei Liberi, un altro maestro di spada, che ci mostra un'arma di cui non abbiamo altre fonti. Probabilmente è qualcosa che si è inventato lui mettere a mezzo briaco. Il che è plausibile, visto che era friulano. Comunque, dovrebbe trattarsi di un'azza o di un martello da guerra, ma a me sembra più uno spiedino con un marshmallow. Le particolarità del suo design sono il peso legato alla cima dell'asta, che dovrebbe essere usato per far cadere l'avversario, e la polvere urticante, che secondo lui dovrebbe essere nascosta dentro la testa dell'arma, per accecare il nemico. In quanto a stranezza, vi sfido a fare di meglio. Proseguiamo il nostro viaggio con il pugnale da parata europeo. Lo ammetto, questo non ha nulla di strano, ma mi serve per introdurre il prossimo. Quel che ci interessa è che viene utilizzato per parare e se si riesce per bloccare l'arma avversaria utilizzando i bracci o i curvi della guardia. Ora, da queste idee di base sono sviluppati due diversi tipi di arma. Il primo è il pugnale trilama, la cui lama centrale si apre grazie ad una molla per trasformarsi in un piccolo tridente che aumenta le possibilità di parata. Il secondo è lo spezzalama, le cui scannalature servono a far entrare la spada avversaria per poi bloccarla con una torsione del polso. Procediamo speditissimi perché ho mille cose da farvi vedere. Tra le spade strane europee è d'obbligo citare la flamberga, questo spadone rinascimentale con la lama ondulata. Ma sapevate che questo tipo di lama si trova anche su altre armi? Guardate ad esempio questa striscia, decisamente esagerata. Ma ho qualcosa anche per voi amanti dell'Oriente. Questo è un kris, un'arma indonesiana molto molto più antica della flamberga da cui forse questa ha preso ispirazione. Quest'altra invece è una spada indiana di cui in realtà non so praticamente nulla se non che vuole rappresentare un cobra. E nulla, volevo farvela vedere solo perché stianissima. Spostiamoci nelle Filippine dove troviamo quest'ascia un po' particolare, utilizzata dalla popolazione dei tigorot. È un po' una via di mezzo tra un'ascia e un piccone e può colpire sia con la lama che con la punta sull'oretro. Facciamo un salto anche in Polinesia per dare un'occhiata alla gran varietà di mazze e bastoni che gli indigeni hanno prodotto nel corso dei secoli. Sono forme molto strane ma io le trovo affascinanti e veramente belle. Se volete saperne di più vi rimando al video di Marta sui Maori in cui vi fa vedere e vi parla di un sacco di cose molto interessanti. A proposito di video vecchi, vi ricordate il video sugli Azteki in cui vi facevo vedere il Makwahitl? Mi sembrava giusto includere quest'arma fichissima anche in questo video. Comunque è una specie di mazza con incassonate delle schegge di ossidiana affilate. Se volete sapere quanto è letale vi rimando a quel video. Ma gli Azteki non sono gli unici che legano roba alle loro armi in legno. Se torniamo nel Pacifico e più propriamente nelle Hawaii e in Micronesia, troviamo il legio mano. Ovvero delle spade, pugnali e mazze di legno a cui vengono legate delle file di denti di squalo per renderle giusto quel tantinello più minacciose. E poi vabbè, gli europei hanno dato sfoggio di tutto il loro buon gusto con questa spada costituita dal rostro di un pesce sega. E questa foto è solo per farvi capire quanto è grossa. Comunque apparteneva ad un principe lettore di Baviera che rispondeva al nome di, e perdonatemi ma devo leggere, Massimiliano II Emanuele Ludovico Maria Giuseppe Cayetano Antonio Nicola Francesco Ignazio Felice Wittelsbach. Adesso guardate la lancia più in alto in questa foto e provate a indovinare a cosa possa servire. Si tratta di una Langshan cinese, una lancia molto lunga che veniva utilizzata in formazione da soldati con il preciso compito di ostacolare i movimenti dei nemici, che si trovavano costretti a dover superare tutte queste punte affilate mentre si difendevano dalle lance e dalle spade degli altri soldati. Mentre siamo in tema, vi mostro anche queste tre armi utilizzate dalla polizia del Giappone feudale. Sono, in ordine da sinistra a destra, uno Tsukubo, un Sodegarami e un Sasumata. Tutte e tre sono armi non letali che venivano utilizzate per immobilizzare i criminali senza ucciderli. Il primo veniva usato per spingere, il secondo per agganciare i vestiti e soprattutto le maniche, il terzo per bloccare gli arti o direttamente il collo del criminale. Ovviamente anche in Europa abbiamo inventato qualcosa di simile. Questa è la forca da prigionieri, la nostra versione del Sasumata. Ce ne sono di molti tipi. Questo ad esempio ha anche un meccanismo a molla che impedisce alla vittima di liberarsi una volta che è stata catturata. Comunque, rimaniamo ancora un attimo in Giappone. Sapevate che i giapponesi sono ossessionati dall'idea di trasformare qualsiasi oggetto in una potenziale arma? Giusto ad esempio, il Gunsen è un ventaglio fatto praticamente interamente in metallo che può offrire sia al refrigerario che una sana dose di botte. Il Kiseru, invece, è la pipa tradizionale dei samurai, ovviamente rivestita in metallo giusto per poterla trasformare in una mazza all'occorrenza. Ora, attraversiamo di nuovo il mare e torniamo in Cina dove voglio farvi vedere il Chukonu o balesse a ripetizione. Il meccanismo di funzionamento è relativamente semplice ma non è questo il video per analizzare tutti i dettagli tecnici. Quello che ci interessa è semplicemente che permetteva all'utilizzatore di lanciare tutti quanti i dardi contenenti nel caricatore superiore in pochissimo tempo, quasi come se fosse un'arma semi-automatica moderna. Mentre ci siamo, passiamo anche in Corea, XV secolo. Questo è un wacha, letteralmente un carretto con sopra una batteria di razzi collegati a delle grosse frecce. Il carretto veniva piazzato in posizione, si accendevano i razzi e si scappava lasciando che il wacha facesse piovere frecce giganti e fuochi d'artificio sui nemici. Credo che questa vinca il premio come arma più scenica in assoluto di oggi. Molto meno scenico, ma non per questo meno efficace, è il Chakram indiano, una delle armi meno elaborate di sempre. Per decenza io ve ne metto uno che sia almeno decorato. Erano grossi come frisbee e come i frisbee si lanciavano verso le persone, con la differenza che questi se ti colpivano ti laccevano la carne. E sì, sono quelli di Xina. Tra l'altro, guardate questa specie di mazza o ascia indiana. Vorrei potervi dire che cos'è, ma non ne ho la più pallida idea. Però ha un coso tondo in cima, quindi mi piaceva e ve l'ho messa. A proposito di roba tonda, che cos'è questo? È un'arma del popolo turcana che abita in Kenya. Non si lancia, ma si mette al polso. È una sorta di coltello da portare sempre con seamo di bracciale, da utilizzare in caso di combattimento ravvicinato o comunque corpo a corpo. Ed esiste anche in versione mignon da mettere sulle dita. Rimaniamo in Africa per un minutino, perché in realtà tutte le cose più assurde sono qui. Partiamo con qualcosa di soft. Questi sono mambele, delle spade con una curvatura piuttosto particolare e con la punta allargata. Sono affilati nella parte interna, come se fossero dei falcetti. Se volete ricordano un po' la falce dei daci oppure lo shuttle, che in realtà però era affilato su entrambi i lati. Questa invece è un'arma cerimoniale che si chiama ngulu. Si dice che venisse usata per decapitare i condannati a morte, ma in realtà appare che questo sia falso. Come forma ricorda un pochino il randao bengalese, anche se in realtà sono completamente scollegati. E il randao veniva effettivamente utilizzato per decapitare roba. E ora finalmente il pezzo forte di questo video. Questi sono Kpinga, coltelli da lancio africani. Se siete confusi è del tutto normale. Il processo mentale che ha portato alla creazione di questi arnesi è Più lame ho, più possibilità ho che una di queste si conficchi dentro il mio avversario quando le lancio. Sensato. Comunque, pare che questi coltelli, quando lanciati, riescano a scavalcare gli scudi rotolando oltre il bordo, il che li rende particolarmente infami. Chiudiamo la carrellata africana con i coltelli prodotti dalle popolazioni del bacino del Congo. Ce ne sono di strani, ma esteticamente gradevoli, tipo questo. E poi ci sono questi. Per quel che riguarda quella forma di serpente, non ho idea. L'unica spiegazione è che il fabbio fosse giucco palso. Lasciamo l'Africa e torniamo in Italia. O meglio, nell'antica Roma. Questa è l'arma caratteristica del gladiatore detto Scissor. Si tratta di un tubo di metallo che copre completamente l'avambraccio e che culmina con una lama a forma di mezzaluna, che veniva usata sia per attaccare che per tagliare le reti del Reziarius, un altro tipo di gladiatore romano. Un'arma simile la troviamo anche in India, con il nome di pata. Ma invece che una mezzaluna, il guanto ha una lunga lama di spada che prosegue parallela all'avambraccio. La pata ha anche una versione un pochino più discreta, che si chiama katar. Nella sua versione di base, il katar è semplicemente un tirapugno affilato, ma a volte nasconde un segreto. Schiacciando nella mano l'impugnatura, la lama centrale si apre, rivelandone una seconda e andando a formare un katar trilama. Fichissimo, ma immagino completamente inutile. Però vi ho letto nel pensiero. Perché limitarsi a pugnalare la gente quando puoi anche spararle? Non vi preoccupate, gli indiani ci hanno pensato. Vi presento il katar pistola, con ben due canne e due grilletti separati. Uno parlato, giusto per aggiungere un pochino di pepe alle vostre risse. E sì, ovviamente hanno anche pensato di mettere la canna della pistola dentro la lama che si apre. Torniamo in Italia per godarci un po' di assurdità rinascimentali. Come non iniziare con il meraviglioso scudo lanterna, un oggetto che sembra uscito da un videogioco, ma vi assicuro che è reale. Il kit include guanto d'arma e scudo con diversi spuntoni di varie dimensioni, lanterna per illuminare intorno a sé e anche una lama di spada per non farsi mancare nulla. Sempre in Italia troviamo la pistola-lantarna, la cosa più steampunk di oggi. Non c'è molto da dire, è semplicemente una pistola sotto sopra con una lanterna attaccata. Così come c'è poco da dire anche dello scudo con fucile incorporato. Anche questa è invenzione di un italiano. Abbiamo capito che nel rinascimento amavano mettere pistola in qualche cosa. Vi faccio giusto qualche altro esempio perché altrimenti a fare una lista completa finiamo nel 2030. Abbiamo ad esempio la pistola ascia, comodissima da impugnare, la mazza-fucile, pratica e leggera, e la spada-pistola, perché in fondo Final Fantasy VIII non si è inventato nulla. Le spade revolver sono davvero resistite. In mezzo a questo delirio credo sia doveroso mostrarvi anche questo design. Un fucile in cui la canna è in realtà l'impugnatura di una spada che viene nascosta nel calcio. Meravigliosamente inefficace ma se non altro astuto. E poi vabbè, andava di moda a nascondere cose dentro altre cose. Guardate ad esempio quest'ascia che in realtà è il fodero di una spada, oppure quest'altra ascia che al suo interno ha non solo la canna di un fucile, ma anche un pugnale, giusto per. E poi c'è lei, colei che farà impallidire i designer di Bloodborne. La testa di quest'ascia è un prodigio dell'ingegneria e della follia tedesca. La parte frontale si apre per rivelare 5 canne ad avancarica, tutte quante con il proprio meccanismo di accensione separato. Non chiedetemi come potreste utilizzare una cosa del genere in combattimento, ma è fichissima. Comunque vi dimostro il livello di paranoia tedesca del nascondere al pistolo ovunque. Queste sono posate con una mini pistola all'interno. Questa è una chiave da carceriere con pistola incorporata e questo è un coltello multiuso in cui il cavatappi fa anche da grilletto per una pistola nascosta all'interno. E nel caso siate stanchi di sparare, questo è un bastone da passeggio con lama, martello e supporto per il vostro moschetto. Le pistole nascoste non fanno al caso vostro? Che ne dite allora di qualcosa di un po' più apparescente, tipo un revolver con tamburo da 20 proiettili? Dai, voglio esagerare. Vi offro 8 tamburi da 6 proiettili l'uno. Se invece preferite qualcosa di un pochino meno moderno, vi presento la rivoltina a 24 canne, tutte quante da caricare rigorosamente una per volta. Ma perché sparare un solo proiettile per volta? Vi presento la pistola piede d'anatea, che vi permette di impallinare dalle 4 alle 9 persone contemporaneamente. Se volete andare ancora oltre, dobbiamo passare al ribadocchino, che poteva avere anche decine di canne montate sulla stessa base. Chiudiamo questo video con qualcosa di un po' più recente, partendo dal fucile con canna-curve periscopio inventato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente il design era fallimentare e quindi venne scartato. Questo invece è il Pangeandria, un progetto inglese. Per farla semplice si tratta di un barile pieno di esplosivi collegato a due ruote alte 3 metri che venivano fatte girare da una serie di razzi. L'idea era quella di fargli raggiungere i 100 km orari e mandarlo a schiantarsi contro le fortificazioni nemiche in modo da farlo esplodere. Peccato che si scassasse appena veniva acceso e quindi anche questo venne scartato. Per finire parliamo dei sovietici, la cui follia progettuale secondo me è inarrivabile. Vi presento lo ZAR, il più grande carro armato mai concepito dalla specie umana. E sì, è un triciclo alto 9 metri e fatto completamente d'acciaio. Per ultimo la ciliegina sulla torta, il carro armato volante Antonov A40, doveva essere trainato da un aeroplano per poi staccarsi e planare fin sul campo di battaglia. I carri armati non possono volare, ma questo i sovietici non lo sapevano e li facevano volare lo stesso. Ci siamo, eccoci alla fine anche di questo video. Grazie per essere arrivati fino a qui e per favore fatemi sapere se questi sono argomenti che vi interessano almeno un pochino, perché ovviamente a me piace parlarne, però non voglio annoiarvi. Come sempre, valutate l'opzione di iscrivervi al canale e di lasciarmi un mi piace se pensate che sia meritato. E se vi va, seguiteci anche su Facebook e Instagram per avere un contatto un pochino più diretto con noi. Io vi saluto e finalmente me ne vado a dormire perché è tardissimo questo momento di sonno. Alla prossima!